a fare i conti con la mente siamo con andrea bertaglio di il fatto quotidiano punto it ecco oggi facciamo una sorta di di anticonferenza questo un po la mission che ci siamo dati no sì un esperimento quanto pare che che vedremo come andrà a finire perché sono un po tutti vedo i partecipanti curiosi in realtà è stato già fatto nelle edizioni precedenti e niente si faranno i conti con l'ambiente nel senso che l'ambiente offre tante opportunità ma ovviamente da da modo di capire che ci sono dei problemi ancora tutti da affrontare come certi casi a livello nazionale stanno stanno dimostrando quindi vedere che cosa offre poi si tratterà oltretutto del problema dell'ecomafia quindi un altro problema con cui fare i conti e si sa ormai che quello ad esempio dei rifiuti o del cemento è uno dei business più 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 dei business maggiori per la criminalità organizzata e quindi si parlerà di tutte queste cose ci sono persone da vari contesti con varie competenze quindi sarà interessante di sicuro tu hai competenze in abito ambientale hai scritto hai anche una conoscenza tecnica se vogliamo della delle tematiche ambientali è corretto si beh tecnica non sono non sono un ingegnere ma diciamo che qualcosa la conosco io tratto quasi prettamente di ambiente ad esempio io ho scritto un libro sul problema dei rifiuti radioattivi in italia e sulla radioattività nel senso che collegabile sia alla rifiuti radioattivi che abbiamo ereditato dall'esperienza nucleare che quella legata alla presenza militare a volte straniera sul nostro sul nostro territorio quindi ma l'ambiente è un è un campo molto molto vasto quindi questo è solo un piccolo dettaglio oggi facciamo i conti allora vediamo cosa esce fuori vediamo un po di fare questi conti perché in italia in particolare penso ce ne sia particolarmente bisogno grazie buon lavoro grazie a voi